Resta un po' l'amaro in bocca questo 15-10 anche perché è un bel primo tempo. Sì, purtroppo è proprio il primo tempo che ci ha condizionato la partita. Abbiamo avuto tanto possesso, tante occasioni che non siamo riusciti a concretizzare. Forse è proprio lì che avremmo dovuto chiudere la partita. Il secondo tempo poi li abbiamo lasciati venire su e poi è stato quello che è stato. In alcuni momenti, soprattutto a fasi statiche, Mischia e alcune mole da Tush ci hanno un po' dominato. Però io direi che il bilancio della partita è a favore nostro, il scontro fisico. Siamo stati un po' poco disciplinati noi a non sapere quando rispingerli, a non giocare tanto nel nostro campo e concedergli tante occasioni. 15 minuti finali, belli tosti perché avete provato fino all'ultimo. Belli tosti ma purtroppo non siamo riusciti ad andare dentro, ci è mancato un po' di possesso. Abbiamo perso ancora delle occasioni che potevano concretizzarsi in punti e il tempo poi non è stato la nostra. Crowley un po' contrariato, abbiamo visto? Cosa aveva detto? Tutti un bel po' contrariati anche perché era partita in casa, abbordabilissima anche per come si era messa al primo tempo. C'è molta amarezza, ma testa alta, lavoriamo alle prossime sfide. Insomma, mai mollare. Col sorriso andiamo avanti alla prossima.